I ragazzi cantano e i giurati si esprimono. Sì, allora io vorrei far parlare un attimo, chiederei a Daniele Mariotto, giornalista freelance, delle considerazioni a caldo. Considerazioni random, tu dici, ma direi complessivamente una più che eccellente non edizione del premio Lucio Dalla, quindi anche un ottimo viatico in vista della solenne celebrazione del decennale che si terrà nel primo weekend del prossimo dicembre, visto che oltretutto questo 2022 non sarà soltanto l'anno del decennale del premio, ma anche ovviamente il decennale della scomparsa di Lucio Dalla. Il lavoro svolto durante la notte, perché si è conclusa a tardissima ora da parte della Commissione Interna e della Commissione Testate Web Radio TV, ha richiesto una lunga elaborazione perché effettivamente possiamo dire che il livello di qualità dei brani era mediamente elevato e a sua volta eccellente sia per i contenuti, sia per i testi, sia per le interpretazioni, soprattutto da parte di alcuni, sia per l'impostazione musicale. E quindi direi che si sono tutte le premesse per poi celebrare solennemente il prossimo decennale. Questa è una delle edizioni sicuramente migliori nella storia del premio. Tra l'altro volevo sottolineare, come dicevo proprio a Maurizio nei giorni scorsi, che una notte di encomio gli va doverosamente indirizzata e destinata per aver saputo in questa edizione selezionare una folta rappresentanza di artisti al femminile, come non mai in edizioni precedenti. Ci vuole, ci vuole, ci voleva. E quindi dobbiamo riconoscere a Maurizio, in quanto inesauribile factotum del premio, questo merito. Grazie, grazie. È iniquitabilmente dovuto.